Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di colloquio di lavoro e in particolare del secondo colloquio, il colloquio tecnico. Di recente durante una consulenza mi sono trovato ad affrontare questo punto, questa problematica, e ho deciso di volerne parlare anche qui sul canale. Abbiamo affrontato già l'argomento colloquio di lavoro, c'è un'intera playlist al riguardo, però mi sono reso conto che abbiamo sempre affrontato quello che era il primo colloquio, ovvero il colloquio motivazionale, e non abbiamo mai affrontato l'argomento colloquio tecnico. Come sapete l'iter selettivo si compone di vari step, c'è una prima parte dove generalmente si tratta l'aspetto motivazionale, ovvero c'è un colloquio conoscitivo slash motivazionale, e poi una seconda parte dove si procede con il colloquio tecnico, quindi andare a valutare le competenze del candidato. Addirittura nella maggior parte dei casi questi step si fanno con persone diverse, cioè mentre una prima parte si fa con il talent acquisition, selezionatore HR, chiamatelo come volete, la seconda parte generalmente si va ad affrontare con quello che è l'iring manager, oppure con la linea tecnica dell'azienda. E quindi essendo diverse queste due fasi dell'iter selettivo, cioè avendo dei clienti diversi, da una parte il cliente e il talent acquisition, dall'altra l'iring manager, hanno due modi di comportarsi più o meno diversi. Lavorando come headhunter il mio compito era quello di ricercare i candidati e, una volta trovati, fargli il colloquio motivazionale, cioè vedere se da un punto di vista professionale e motivazionale erano in linea con l'opportunità per la quale stavo svolgendo l'iter selettivo. E una volta superata insieme ai candidati questa prima fase, mi occupavo di sponsorizzare i migliori candidati che avevo colloquiato alle aziende, e quindi supportarli nella fase di colloquio tecnico che poi avrebbero fatto direttamente con queste aziende. E infatti al termine di ogni colloquio tecnico che i candidati andavano a fare, il mio compito era quello di recuperare il feedback dal candidato, chiedergli cosa avesse fatto, cosa gli avessero chiesto e quindi come fosse andato questo secondo step del leader selettivo. Quindi in carriera ho preso centinaia di feedback sul colloquio tecnico e vi posso dire che azienda grande e azienda piccola funzionano più o meno tutti allo stesso modo. Però partiamo dal problema. Qual è il problema del secondo colloquio? Ascoltando i feedback che ho ricevuto nel corso della mia carriera, vi posso dire che il problema principale del colloquio tecnico è che non sappiamo come affrontarlo. Mentre per il colloquio motivazionale abbiamo una vastissima gamma di domande al quale fare riferimento, molte delle quali ho affrontato nel corso di alcuni video, per quanto riguarda il colloquio tecnico non abbiamo delle domande di riferimento. E infatti l'intera struttura del colloquio tecnico del secondo colloquio è a volontà del manager. E quindi non abbiamo idea né delle domande che ci verranno sottoposte né di come argomentare e strutturare le risposte. Poi c'è anche un secondo problema. Quando ci avviciniamo al secondo colloquio, al colloquio tecnico, iniziamo a crederci veramente che questa può essere la nostra opportunità e quindi abbiamo paura di rovinare tutto. Quindi per evitare di mandare all'aria tutto quello che abbiamo costruito fino a questo punto, io vi direi proprio di partire da questo punto di partenza, ovvero dal manager. Manager che sarebbe in questa fase il nostro cliente. Poiché la parte motivazionale l'abbiamo già smarcata negli incontri precedenti con la divisione HR, quindi con il talent acquisition, il manager in questo secondo step del leader selettivo, in questo secondo colloquio, vuole da noi principalmente tre cose. Competenza, professionalità e presentabilità. E quindi dobbiamo dimostrare di essere delle persone in gamba, sveglie e soprattutto di essere dei professionisti. Infatti nel corso della mia carriera ho notato che una delle cause principali per la quale si veniva scartati durante il secondo colloquio, durante il colloquio tecnico, era proprio quella di non riuscire a dimostrare di essere dei professionisti, cioè di far valere tutto il proprio profilo e le proprie conoscenze. Quindi in parole povere di non riuscire a valorizzare il proprio percorso e quello che si è fatti fino a quel momento. Infatti spesso non è un problema di esperienza, ne ho parlato anche in un video che ho fatto qualche mese fa, è un problema di sapersi vendere, quindi un problema di personal branding, cioè di riuscire a raccontare le proprie esperienze in modo tale da renderci dei professionisti agli occhi del manager. Come si fa? Come si dimostra di essere professionisti? Questa è una regola fondamentale. Qualunque domanda ci faccia il manager, non limitiamoci a rispondere con il dettaglio tecnico, con la risposta tecnica, ma andiamo a sottolineare, ad evidenziare, a raccontare un'esperienza nel quale abbiamo messo in pratica quello che ci è stato chiesto. L'esperienza può essere relativa a un lavoro di gruppo in l'università, un progetto personale, una lettura personale, un approfondimento, qualunque cosa che dimostri che quello che ci è stato chiesto l'abbiamo messo in pratica in maniera professionale. E quindi andando a raccontare cose che testimoniano che noi effettivamente abbiamo messo in campo le cose che abbiamo appreso durante il nostro percorso e la cosa che ci è stata chiesta. E quindi andando a raccontare esperienze che permettono al manager di capire che noi non solo siamo preparati tecnicamente, ma che riusciamo a mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e che siamo pronti per lavorare con lui. Logicamente finché conosciamo la risposta alle domande che ci pone l'iring manager, è facile mentalmente andare a recuperare un'esperienza da raccontare a supporto di quella risposta. Ma cosa succede quando non conosciamo la risposta alla domanda? Qui bisogna fare un discorso un po' a parte ed è questo che fa veramente la differenza. Un concetto principale è che nessuno si aspetta che voi sappiate tutto. La cosa importante infatti è che anche quando voi non sapete perfettamente la risposta, riusciate a cavarvela con quello che conoscete. Vi faccio un esempio per farvi capire questo principio, questo concetto. Se a me mi chiedessero ad un colloquio se ho mai venduto un prodotto, la risposta che mi verrebbe in mente è no, non ho mai venduto un prodotto, non ho mai fatto vendita di prodotto. Però anziché rispondere no, io in realtà potrei rispondere che ho lavorato in una società che mi ha permesso di vendere un servizio e che la vendita del servizio era strutturata come se fosse la vendita di un prodotto. Quindi vado a raccontare qualcosa di simile e vado a spiegare perché secondo me è simile con argomentazioni solide. Faccio un esempio un po' più tecnico su qualche software. Per esempio se mi venisse chiesto se ho mai utilizzato Final Cut Pro per il montaggio dei video, la risposta sarebbe no, non so manco com'è fatto Final Cut, però ad un colloquio potrei gestirmela diversamente. E quindi invece di rispondere no, posso dedurre che Final Cut sia simile ai software di montaggio che ho utilizzato e posso articolare una risposta dicendo ho dato uno sguardo a tutti i software di montaggio, compreso che sono abbastanza simili tra loro, io personalmente utilizzo Premiere Pro, però non ho nessun problema ad utilizzarli tutti quanti, compreso Final Cut Pro. E così via, facendo questo gioco con ogni domanda. Il segreto è non dire mai di no, non dire mai non so farlo, non dire mai non l'ho mai visto, ma è quello di andare a recuperare delle cose simili a quelle che ci sono state chieste. Anche perché facendo questo lavoro dimostriamo due cose. La prima è che riusciamo ad utilizzare le nostre esperienze e quello che abbiamo studiato, quello che sappiamo per andare a coprire delle nostre lacune, e quindi dimostriamo adattabilità e flessibilità. E la seconda cosa è che sappiamo sempre di cosa si stia parlando e quindi dimostriamo competenza. Anche perché se siamo arrivati a questo step difficilmente ci verrà chiesto qualcosa che proprio non sappiamo, e quindi è relativamente facile riuscire a fare questo tipo di associazioni. Ovviamente ragazzi il mio consiglio è sempre quello di arrivare a colloquio quanto più preparati possibile. Preparazione non vuol dire solamente conoscere perfettamente dal punto di vista tecnico tutti gli argomenti che si possono trattare a colloquio, ma anche andarsi ad informare su chi è l'iring manager, che ruolo ha, e soprattutto se ha un ruolo commerciale oppure no. Questo perché fa tutta la differenza del mondo andare a parlare con una persona che sappiamo già cosa vuole da noi, e riuscire quindi ad articolare nella maniera migliore possibile le risposte. Vi assicuro che conoscendo il cliente e quello che vuole avremo una marcia in più. E in generale, in tutte le cose che facciamo, affrontare una conversazione in maniera business-oriented, cioè immaginando il nostro interlocutore come cliente ci può aiutare veramente in qualunque cosa vogliamo fare. Per questo video ragazzi è tutto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e attivate la campanellina, e fatemi sapere nei commenti se avete qualcosa da chiedere. E alla prossima!